Ciao a tutti, io sono Alicia Guiari, sono italiana e vengo da Genova. Quest'anno è il mio primo anno a Perugia dove studio lingua e cultura italiana per l'insegnamento all'Università per Stranieri. Questo corso trennale mi ha permesso di intraprendere il cammino che ho sempre desiderato scegliere e mi sta formando nelle discipline fondamentali per l'insegnamento dell'italiano e per la sua conoscenza. Studiare la Stranieri significa anche muoversi in un ambiente dinamico e conoscere persone e compagni provenienti da ogni parte del mondo che ogni giorno ti insegnano qualcosa e arricchiscono il tuo bagaglio culturale. Anche adesso che siamo lontani, grazie alla didattica online e al sostegno dei nostri professori ci sentiamo vicini e soprattutto mai da soli. Un bacio a tutti e vi aspetto il prossimo anno alla Stranieri. Grazie a tutti.